Buongiorno, ben trovati, appuntamento il primo della settimana con Mattino 6 di lunedì 4 luglio 2016, la nostra consueta rassegna stampa che apriamo come sempre con il Santo del Giorno, una santa in questo caso viene ricordata dalla Chiesa Cattolica, si tratta di Santa Elisabetta di Portogallo che nacque nel 1271 da Pietro III, re di Aragona e da Costanza, madre di Manfredi, re di Sicilia all'età di 8 anni cominciò a recitare l'Ufficio Divino e così fece per tutta la vita come principessa aveva tutta la possibilità di seguire la moda ma non volle farlo privandosi anche dei giochi e dei piaceri leciti, contratto matrimonio con Dionigi, re del Portogallo non tralasciò gli esercizi di pietà e le buone opere in cui si era fino allora esercitata al mattino si alzava presto, recitava parte dell'Ufficio, assisteva alla Santa Messa e poi trascorreva le ore della giornata nell'adempiere i doveri del suo Stato nella lettura della Sacra Scrittura e del lavoro manuale, non stava mai oziosa da questo sistema non si lasciò smuovere, osservava i digiuni imposti dalla Chiesa e se ne imponeva altri visitava e sollevava poveri e infermi verso il marito di costumi depravati la Pia Regina usò ogni preghiera ed esortazione per indurlo alla conversione essendo stata accusata di aver eccitato suo figlio alla ribellione contro il Re fu dall'empio sovrano privata dei suoi beni e relegata nella piccola città di Alacuar molti suoi sudditi le offersero armi e truppe per recuperare il trono dal quale era stata ingiustamente scacciata ma ella nulla accettò ed esortò tutti a mantenersi fedeli al sovrano questi ebbe finalmente la grazia di entrare in se stesso, riconobbe l'innocenza di Elisabetta la richiomò a corte e la perdonò, la Santa Regina approfittò della conversione del marito per confermarlo nella via della salvezza eterna, egli morì nel 1325 salito al trono Alfonso figlio di Elisabetta, ella pensò così di farsi religiosa nel convento di Santa Chiara in Coimbra ma non essendole stato consentito, visse ritirata in un appartamento contiguo al monastero per due volte si recò umilmente e poveramente in pellegrinaggio a Compostela di ritorno dal secondo pellegrinaggio avendo udito che il re suo figlio era in discordia con Alfonso VII di Castiglia si affrettò ad arrivare ad Estremoz per pacificare i due condententi ma fu colta da violenta febbre morì così santamente a 65 anni, fu sepolta nel monastero di Santa Chiara da lei fondato, Santa Elisabetta di Portogallo che ricorda oggi la Chiesa Cattolica nella giornata del 4 luglio noi apriamo allora la nostra rassegna stampa come sempre partendo dalle prime pagine del quotidiano Il Centro iniziamo con la prima pagina della cronaca di Pescara vediamo quali sono i titoli principali trattati nell'edizione pescarese del Centro il titolo di apertura riguarda la tassa su rifiuti, uno su tre non la paga Pescara solo due terzi dei contribuenti hanno effettuato il versamento della prima rata di maggio e poi la fotonotizia riguarda il Flaiano ieri la serata finale al teatro d'annunzio con la consegna dei Pegasodoro vedete nella foto la caccia al selfie con Ciro l'immortale e poi nelle cronache il sindaco fa il bagno, questo è il mio mare, cittadini divisi sul web e poi le date che riguardano il fermo biologico, lo stop alla pesca scatterà il prossimo 16 agosto e poi Moschea, la gente a paura, Pescara è esposto in procura dei residenti di via Pisa lasciamo l'edizione di Pescara del Centro, andiamo a vedere insieme l'edizione ora di Chieti, Lanciano, Vasto poi proseguiremo con quella di Termo e chiuderemo con l'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona vediamo allora l'edizione di Chieti del Centro, eccola qui la cronaca in primo piano io rapinato da quattro finti poliziotti, Chieti a 80 anni si presenta dai carabinieri per denunciare un episodio allarmante accaduto a Brecciarola e poi andiamo a San Salvo, pulizie sul litorale, i bambini, spazzini della spiaggia e poi la sentenza definita sessista, vedete è donna, non può fare il custode dell'azienda e poi ritroviamo le date del fermo biologico e poi andiamo a ripatriatina 4.000 senza acqua, domenica da incubo nel paese in emergenza idrica e siamo ora al centro, l'edizione di Teramo in questo caso ovviamente daremo uno sguardo a quelli che sono gli argomenti che riguardano il capoluogo Abrutino e la provincia teramana di Sabatino stop, taglia la sanità, parla il presidente della provincia di Teramo che invita l'assessore Paolucci a cambiare il piano regionale e poi Italpannelli ricostruisce e riassume gli operai la fabbrica di Ancarano era andata a fuoco negli scorsi mesi, ricorderete e dunque si riparte anche con la riassunzione degli operai e all'interno nelle croneche, in questo caso lo sport di Martino in serie B predestinato a 28 anni, l'arbitro di Giulianova dirigerà il prossimo anno le partite del campionato cadetto dunque un grosso riconoscimento per il fischietto Giuliese e poi vediamo un altro titolo Olivieri due condanne e la guerra del giornalista con il ristoratore Schillaci e chiudiamo con l'edizione di L'Aquila del quotidiano Il Centro Aquila, Avezzano e Sulmona poi inizieremo a dare uno sguardo anche alle pagine interne dei nostri quotidiani vedremo anche i titoli dei giornali nazionali oggi in edicolo allora edizione di L'Aquila, Avezzano, Sulmona del Centro cronaca in questo caso, furgone esploso, indagini alla svolta L'Aquila per la polizia, il bersaglio non era il commerciante ma l'uomo cui prestò il doblò e poi l'Aquila, gemellaggio con Sant'Angelo D'Alife Celestino V, patrono nel paese della Campania e poi le cronache a Roio, trovato sano e salvo il 51enne torna a casa, era scomparso due giorni fa e poi Avezzano, ospedale scontro aperto mobilitazione per neochirurgia chiusa allora lasciamo dunque le quattro edizioni del quotidiano Il Centro andiamo a vedere, lo faremo tra qualche istante i titoli, i primi titoli dei quotidiani nazionali oggi in edicolo, ovviamente si parla del massacro avvenuto in Bangladesh della morte di nove italiani allora partiamo dal quotidiano La Repubblica ecco qui La Repubblica ovviamente come in tutti i quotidiani il titolo principale riguarda questa vicenda funerali di stato ma in Bangladesh i kamikaze, figli dell'alta borghesia vedete nella foto proprio questi presunti attentatori che facevano parte, come si suol dire di famiglie dell'alta borghesia dunque famiglie importanti del paese in cui è avvenuto questo massacro e poi Pamuk ecco il decalogo per il museo delle storie quotidiane c'è questo intervento che riguarda uno dei musei più famosi al mondo e poi si parla di economia tra qualche istante andremo a vedere il titolo che riguarda proprio un titolo che arriva che riguarda proprio la situazione economica nel nostro paese MPS vedete Monte dei Paschi l'ultima della BCE smaltite 10 miliardi di sofferenze vedete nella foto Mario Draghi che è il presidente della BCE Banca Centrale Europea allora andiamo avanti da Repubblica passiamo al Corriere della Sera il commando dei giovani ricchi nella scuola di Dacca dove sono cresciuti i terroristi come abbiamo visto anche da Repubblica figli di famiglie importanti e facoltose di questo paese dove è accaduto questo massacro e poi vedete Obama alla Casa Bianca una foto del presidente degli Stati Uniti a lavoro in ufficio e poi Bruxelles è ferma basta con i giochi agiscano i governi si parla della Brexit in questo caso e ovviamente c'è preoccupazione per quanto sta accadendo proprio dopo l'uscita la decisione della Gran Bretagna di uscire dall'Unione Europea siamo al quotidiano il tempo ecco la casta dei municipi ci costa 7 milioni l'anno si parla del municipio di Roma e poi il richiamo anche all'Italia che è uscita dagli europei dopo la sconfitta ai rigori con la Germania vedete le due facce dell'Italia Giaccherini uno degli eroi nella formazione azzurra e poi invece Pelle che è stato criticato per qualche atteggiamento non ritenuto sicuramente positivo proprio nell'ultima gara giocata dagli azzurri con la Germania andiamo avanti siamo al fatto quotidiano TAF scusate truffa ad alta velocità il ministro del Rio risparmia sul tracciato Appendino Neo presidente della regione Piemonte dice opera inutile e poi vedete anche il centropagina questa storia di copertina stalking ti persegui tutti odio si parla proprio delle vicende drammatiche che in queste ultime ore ancora una volta hanno avuto come vittime le donne che sono state massacrate in alcuni casi dai loro compagni proseguiamo siamo al quotidiano il gazzettino di Venezia gli italiani erano l'obiettivo si torna a parlare dell'attentato di Dacca parlano proprio le autorità che dicono non siamo riusciti a fermare i killer il Friuli Venezia Giulia in lutto perché è una delle regioni da cui provenivano alcuni degli italiani morti a Dacca e mercoledì ci sarà l'arrivo delle salme poi c'è il rapporto dei Ross dei carabinieri sull'attentato scelta precisa delle vittime secondo il Ross ma la Farnesina invita alla cautela proseguiamo siamo al quotidiano libero l'islam moderato tace i nostri intellettuali ignoranti continuano a dire che questa non è una guerra di religione dice scrive il quotidiano libero il massacro di Dacca non lo turba dunque c'è questa polemica per il presunto silenzio dell'islamismo moderato e poi in Vaticano un religioso su due e gay c'è questa notizia che viene riportata a centro pagina con questa indiscrezione che ovviamente potrebbe creare delle polemiche e poi c'è l'intervista all'economista Claudio Borghi vedete più in basso che dice così prepariamo l'uscita dall'euro incontri fra Lega francesi olandesi e austriaci perché ovviamente l'uscita di Londra dalla UE ha diciamo solleticato in un certo senso l'interesse di tanti che in Europa non vedono di buon grado la partecipazione dell'Italia tra l'altro come stato fondatore all'Unione Europea proseguiamo siamo al quotidiano di Genova il secolo XIX i due volti degli assassini benestanti e istruiti già dagli stidi d'acca erano studenti modello e poi il piano del governo controlli informatici sugli italiani all'estero e poi vedete a centropagina la fotonotizia cariche scontri al confine blindato di Ventimiglia confine tra Italia e Francia dove spesso nelle ultime settimane ci sono stati problemi e scontri tra la polizia e gli immigrati siamo alla gazzetta del mezzogiorno a quotidiano che affronta tematiche proprio del mezzogiorno d'Italia terroristi piedi di quattrini il governo bengalese giovani istruiti non avevano contatti con l'Isis il governo bengalese parla di attentato opera di malviventi locali e poi Conte come un eroe per le chiedo scusa ovviamente si parla dell'Italia eliminata dalla Germania ai rigori e poi siamo al quotidiano l'unità terroristi della villa accanto i barbari assassini di Dacca erano giovani e ricchi rampolli affiliati però a un gruppo jadaista e a Baghdad l'Isis fa strage di musulmani oltre 120 morti e tra loro tantissimi bambini dunque non si può dimenticare quello che accade anche in altre parti del pianeta soprattutto in questo caso in Iraq siamo al sole 24 ore il quotidiano economico il titolo principale i titoli principali riguardano soprattutto temi di economia fisco la stretta antielusione fa i conti con il dopo Brexit l'Italia già in linea con molte misure dell'Unione Europea e dell'Ocse attese per le mosse di Londra e dunque si parla proprio di fisco in questo titolo principale del sole 24 ore sole 24 ore ultimo quotidiano nazionale che abbiamo preso in esame questa mattina per quanto riguarda proprio i quotidiani nazionali che sono oggi in edicola noi possiamo allora tornare al quotidiano il centro per iniziare a vedere qualche titolo che riguarda la nostra regione l'Abruzzo poi vedremo anche tra poco inizieremo a vedere le pagine provinciali e poi vi ricordo alle 7.20 come sempre l'appuntamento con il meteo allora prima pagina d'Abruzzo del centro eccola qui si torna a parlare del fermo biologico lo stop alla pesca scatta dopo ferragosto vediamo confermato il periodo 16 agosto 26 settembre ma la marineria non ci sta così dicono si tutelano altri interessi non la specie ittica e poi vedete questa foto notizia dei fibrillatori donati dai volontari agli angeli del mare e poi l'iniziativa Civitella Alfedena raccolti 5 quintali di rifiuti nel parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise vediamo la prossima pagina che riguarda la cronica regionale si parla di consiglio regionale chi fa e cosa in consiglio regionale c'è questa analisi molto approfondita del quotidiano il centro sui consiglieri regionali su quello che in due anni consiglieri regionali hanno fatto vedete c'è questo specchietto che riguarda proprio sia i consiglieri di maggioranza che quelli di opposizione con tutte le proposte di legge controfirmate dai vari consiglieri per quanto riguarda la maggioranza spiccano le 27 proposte di legge del consigliere del PD Pietrucci e dell'altro esponente Mariani in minoranza molto attivo Sospiri di Forza Italia con 15 proposte di legge andiamo avanti siamo arrivati alla cronaca di Pescara del centro dunque ci possiamo fermare possiamo andare a vedere per tornare a parlare di Abruzzo invece le prime pagine dell'inserto regionale proprio del messaggero per vedere anche in questo caso quali sono i titoli più importanti trattati proprio nell'inserto Abruzzo del quotidiano romano oggi in edicola tra l'altro come ogni lunedì nonostante siano ormai terminati da qualche settimana i campionati c'è sempre molto spazio per quanto riguarda lo sport della nostra regione vediamo comunque come detto la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero eccola qui allarme caldo task force in azione Pescara AFA e temperature alte il comune allerta il COS i centri sociali sul territorio l'assessore Diodati numero verde a disposizione per anziani soli e controlli telefonici e poi la cronaca in moto si schianta contro un palo giovane gravissimo incidente accaduto a Francavilla al mare e poi premio Flaiano le star si fermano per Dacca tutto esaurito al d'annunzio ovviamente c'è stato un giusto e doveroso ricordo anche per la tragedia che ha colpito gli italiani nostri connazionali proprio a Dacca in Bangladesh e poi c'è questo articolo il personaggio del lunedì in questo articolo di spalla Rocco Siffredi dice a Budapest la macchina per gli arrosticini l'ortonese tra docufilm su Mediaset e l'Accademia per il porno dice sono molto esigente molto conosciuto all'estero Siffredi parla proprio di questa caratteristica abruzzese degli arrosticini questo prodotto tipico che sta spopolando anche oltre frontiera vediamo poi che arriviamo subito alle pagine locali del messaggero allora visto che ci troviamo proprio sul messaggero prima di fermarci per il medio iniziamo a leggere qualche pagina dal quotidiano romano nel suo inserto abruzzese prima pagina dedicata a Pescara Flaiano le star si fermano per le vittime di DACA standing ovation per Co il ricordo di Pino Insegno e Alessia Navarro Licia Miglietta Gabriele Garco Boni Damore e Frattini in trionfo e poi Anziani a rischio caldo abbiamo visto in prima pagina task force al lavoro e poi brucia ancora San Silvestro rogo meno esteso però rispetto a quello di sabato e poi escursionista salvata in elicottero ieri in provincia dell'Aquila e poi la cronaca Franca Villa al mare in moto contro un palo giovane grave in prognosi riservata all'ospedale di Chieti secondo i primi riscontri avrebbe fatto tutto da solo allora prima di proseguire con le pagine del messaggero con puntualità direi Svizzera questa mattina perché sono le 7.20 in punto possiamo aprire il nostro consueto appuntamento la nostra consueta pagina dedicata al meteo con il nostro Giovanni De Palma che vado a salutare Giovanni buongiorno buongiorno Paolo buongiorno a te e a tutti i telespettatori allora stavamo proprio leggendo dal quotidiano il messaggero rischio caldo task force al lavoro nei vari comuni in questo caso al comune di Pescara per quanto riguarda l'assistenza agli anziani a tutte quelle persone che hanno problemi di salute che dunque possono più di altri soffrire il caldo a proposito di caldo negli ultimi giorni c'è stato un aumento delle temperature non sono però credo picchi eccezionali invece per quanto riguarda il tempo cosa dobbiamo attenderci per quest'inizio di settimana considerando che questa mattina il cielo perlomeno dalle nostre parti è nuvoloso sì Paolo è nuvoloso perché al nord è transitato un sistema nuvoloso e l'aria più fresca si sta riversando anche verso il settore adriatico di conseguenza si formano questi annuvolamenti che non produrranno fenomeni ma ovviamente tendranno a persistere ancora per qualche ora per poi attenuarsi lungo la fascia costiera e riproporsi invece nel corso del pomeriggio tardo pomeriggio sulle zone interne e montuose dove occasionalmente ci sarà spazio a qualche rovescio in attenuazione in serata in nottato siamo interessati da una vasta area di alta pressione che ci protegge dall'arrivo di perturbazioni tuttavia tra domani e mercoledì l'alta pressione subirà un parziale cedimento di conseguenza dalla Francia transiteranno dei corpi nuvolosi di masse l'aria più fresca di origine atlantica e il passaggio di queste masse d'aria potrebbe dar luogo a fenomeni di instabilità tra domani e mercoledì con possibilità di temporali pomeridiani sulle zone montuose in estensione poi nel corso del pomeriggio verso le zone pedemontane e culinari che si affacciano sul versante adriatico i fenomeni poi tenderanno sempre ad attenuarsi durante le ore serali e notturne primo mattino mentre poi per quel che riguarda la tendenza successiva Paolo c'è da segnalare la nuova rimonta di una vasta area di alta pressione non si tratta dell'anticiclone africano però insomma torneranno ad aumentare le temperature che invece nelle prossime ore tra oggi e domani subiranno una lieve diminuzione soprattutto nei valori minimi quindi a partire da giovedì temperature in aumento continueremo ad avere un tempo estivo ma ripeto non sarà il caldo diciamo intenso perlomeno nei primi giorni almeno fino alla giornata di sabato non ci dovrebbero essere valori picchi molto elevati chiaro che farà caldo perché siamo a luglio in luglio e si tratta di un mese più stabile dell'anno e quindi ci possono essere queste situazioni però insomma al momento non si intravedono le rimonte dell'anticiclone africano e le correnti atlantiche sono transitano lievemente più a nord della nostra penisola questo vuol dire che potremmo essere anche interessati da improvvisi guatti nel corso dei prossimi giorni ciò non avverrà ovviamente fino alla fine della settimana almeno questo è quello che emerge osservando gli ultimi aggiornamenti Paolo Bene, bene grazie grazie Giovanni dunque ci hai fatto come sempre un quadro esaustivo del tempo della situazione anche per i prossimi giorni farà caldo ma non in maniera eccessiva dunque grazie Giovanni appuntamento con te domani sempre nel corso di mattino 6 buona giornata e buon lavoro grazie Paolo buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 ringraziamo Giovanni De Palma ma per restare sempre informati vi ricordo il sito www.abruzzometeo.org eccolo qui puntualmente inquadrato con tutte le notizie in tempo reale sull'evoluzione meteo che riguarda la nostra regione i live le foto con i nostri capoluoghi tutte le notizie che riguardano il tempo e poi la pagina Facebook altro utile strumento questo social network per interagire con il nostro meteorologo Giovanni De Palma che ritroveremo domani puntualmente nel corso di mattino 6 alle 7 e 20 noi torniamo alle pagine del messaggero avevamo visto abbiamo letto insieme la pagina della cronaca di Pescara proseguiamo con l'Aquila saldi partenza rilento affluenza insoddisfacente è mancato il boom che volevamo però restiamo molto fiduciosi dicono diciamo gli organizzatori di questa dei saldi e dunque gli esercenti i negozi di vicinato pagano caro la concorrenza della maxidistribuzione ma questa è una questione che riguarda un po' ormai un po' tutti in Abruzzo ma non solo e poi allarme è rientrato sospiro di sollievo per la famiglia Iezzi Ferdinando è stato ritrovato nella notte ed è tornato a casa questo 51enne di Roio che era scomparso nei giorni scorsi e poi rete di telecamere sorveglierà gli sporcaccioni i controlli predisposti dall'amministrazione comunale all'Aquila poi di spalla vedete sulla sinistra un titolo che riguarda la cronaca giudiziaria morte di un dializzato medici verso l'assoluzione poi in basso a fondo pagina l'Aquila riparte l'11 luglio sotto esame due promesse parliamo di rugby e della formazione nero-verde che parteciperà alla prossima stagione al prossimo campionato di serie e poi sanità De Rubeis assolto procura in appello il sostituto Roberta Davoglio di familiari contro lo scagionamento del dottore andiamo avanti siamo la pagina di Avezzano Sulmona di Pangrazio sanità niente soppressioni il sindaco di Avezzano critica la chiusura di neurochirurgia e convoca due summit in ambito territoriale Galzio nessuna critica professionale ma resta sotto la mia personale lente di ingrandimento e poi 90 assunti in comune sempre ad Avezzano contratti a termine per sei mesi e ancora nella città marsicana consiglio approvati tutti e sette i punti da Avezzano ci spostiamo a Sulmona innanzitutto la cronaca cade nel fiume anziano salvato si tratta di un 73enne proprio di Sulmona e poi ancora a fondo pagina sempre a Sulmona stazione allagata cercasi soluzione ma mancano i soldi per sistemarle poi a Pescasseroli migranti turbolenti accoglienza revocata proseguiamo siamo alla pagina di Chieti sempre dalle pagine del messaggero addio sede in piazza Venturi lì sono nati grandi progetti l'edificio che ospitava urbanistica e ambiente siamo ora a Chieti è in vendita ma nessuno lo vuole trasferiti i settori uffici impiegati con la chiusura risparmi per 70 mila euro e siamo a San Vito dubbi sulla balneabilità la denuncia del sindaco Rocco Mancini e poi in basso a Vasto le musiche della banda per l'addio a Roberta Roberta Smargiassi questa 34enne morta in un incidente stradale avvenuto proprio nel centro di Vasto e poi andiamo a Ortona l'igiene urbana alla Ecolan chieste le dimissioni del sindaco e siamo alla pagina di Teramo dal messaggero Ruzzo mai promessa la presidenza a qualcuno parla il sindaco Brucchi che si smarca dal pressing degli aleati del centrodestra in comune centrosinistra diviso su Forlini oggi iniziano le grandi manovre da Teramo a Giulianova lungomare sconnesso miete un'altra vittima donna cade inciambando sulle mattonelle indiane soccorsa dai commercianti ancora Giulianova commerciante derubato da due falsi carabinieri e poi tornando a Teramo preso mentre tenta di rubare auto è avvenuto in centro storico e poi siamo a Rosseto degli Abruzzi il neosindaco di Sabatino sarà monocolore vice sindaco Tacchetti in pole position e poi notte bianca un flop colpa della delusione azzurra siamo a Teramo anche il cantiere onnipresente in Corso San Giorgio ha contribuito ad allontanare la clientela siamo arrivati alle pagine dello sport dunque dobbiamo ripartire proprio dal centro per andare a leggere anche in questo caso le pagine di cronaca provinciale ma dobbiamo fermarci come sempre per qualche istante poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 di nuovo in studio seconda parte di mattino 6 siamo alle pagine del quotidiano il centro ripartiamo come vi dicevo prima della pausa con le cronache provinciali ripartiamo da Pescara incendio siamo alla cronaca distrugge il rifugio dei disperati fiamme all'alba nel giardino del lungo fiume chiuso da 9 anni abbandonato l'edificio in legno era costato 50.000 euro e poi brucia ancora la collina delle antenne tre roghi in due giorni paura a San Silvestro e poi i residenti danno l'allarme la moschea è pericolosa gli abitanti di via Pisa scrivono al prefetto e al questore i locali non sono sicuri e Forza Italia presenta un'interrogazione urgente al sindaco Alessandrini poi i controlli dei vigili urbani assalto alle riviere ieri per la giornata di mare anche a Pescara multate 70 auto per sosta selvaggia la tassa sui rifiuti Tari non ha pagato un cittadino su tre la rata di maggio versata da due terzi dei contribuenti ora si torna agli sportelli per la seconda scadenza di fine luglio in basso Alessandrini fa il bagno in mare il sindaco pubblica la sua foto del tuffo su Facebook e i cittadini si dividono e poi come detto l'emergenza il caldo anziani attivate misure proprio per far fronte alle temperature elevate siamo alla cronaca di Pescara e provincia marina di città Sant'Angelo i cinghiali arrivano nella piscina famiglia con tre bambini costretta a scappare in casa e poi Montesilvano caccia agli evasori Maxi in carico inviate le bollette Tari ai morosi costerà 50.000 euro l'appalto alla Soget e poi a Penne l'amministrazione Semproni vara il primo bilancio e poi lutto a Francavilla al mare addio a Picciani che inventò il Blue Bar proseguiamo pagina di Chieti del centro in questo caso si parla di sentenza definita sessista e donna non può essere il custode di un'azienda una frase scritta dai giudici della commissione tributaria scatena reazioni la protagonista ricorre in Cassazione la ritengo dice una discriminazione e poi ripateatina torna l'incubo siccita 4.000 cittadini senza acqua e poi la notizia di cronaca che arriva sempre da Chieti io derubato ad 80 anni da finti poliziotti si presenta dai carabinieri per denunciare quanto gli sarebbe accaduto in una via di Brecciarola sono in corso indagini e siamo da Chieti siamo all'Aquila l'attentato all'area sport furgone esploso ce l'ha svolta per la polizia il bersaglio non era il commerciante Eftoschi ma l'uomo cui aveva prestato il suo doblò Roio è salvo l'uomo scomparso ritrovato sulla Mausonia gli amici nel post sisma è stato coraggioso e poi Avezzano il cane lanciato dall'auto era stato rubato ai proprietari e poi ancora Avezzano si parla di sanità chiusura di neurochirurgia e mobilitazione Avezzano Iampieri consigliere regionale dice questo è uno stupro alla Marsica di Pangrazio va salvato il servizio salva vita siamo alla pagina di Teramo del Codidiano il centro il presidente della provincia di Teramo Renzo di Sabatino dall'altola all'assessore Paolucci basta tagli alla nostra sanità assessore ovviamente alla sanità regionale per il presidente della provincia vanno riequilibrati posti letto e personale rispetto alle altre asle poi Teramo e l'Aquila si dividano le eccellenze e si crei dice di Sabatino una connessione Giulianova Santomero e poi il caso Team Ecotedi Lanac Ranalli e Bozzelli non sono incompatibili in basso torna il cammino Teramano e diventa permanente pellegrinaggio a piedi fra Giulianova e San Gabriele e poi domani alle 11 nel museo Stauros di San Gabriele si aprirà un convegno di studio su Abruzzo in sicurezza con la partecipazione di Fabrizio Curcio capo della protezione civile nazionale e di Maurizio Grassi direttore della struttura anti dissesto idrogeologico della presidenza del consiglio siamo arrivati così alle pagine dello sport l'inserto poi estivo dell'Aquilone ripartiamo dunque dal messaggero per andare a vedere insieme proprio le pagine dello sport del giornale Oggi Nedicola come sempre grande spazio proprio allo sport nel per quanto riguarda la cronaca regionale partiamo appunto dal messaggero il sindaco vota il Pescara poi tra l'altro tra poco vedremo anche apriremo anche una pagina relativa agli europei con i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali Oggi Nedicola partiamo comunque dal Pescara il sindaco vota il Pescara Marco Sanzovini dice ho sempre saputo che i miei compagni ce l'avrebbero fatta un gruppo così forte non poteva fallire rispetto alla ultima Serie A stavolta ci sono premesse diverse Oddo è una garanzia e la società imparerà dai vecchi errori e poi Palena pronta ad ospitare la squadra e la tifoseria il ritiro ovviamente dei Biancazzurri ricordiamo dal 14 luglio al 2 agosto a Palena in provincia di Chieti e oggi si apre la campagna abbonamenti riservata però ai vecchi abbonati dunque la prelazione per gli abbonati della passata stagione e poi in basso si aspetta per oggi la risposta positiva di Ageti si attendono novità anche su Memushai due albanesi vedremo poi dal centro che è probabilmente però il giocatore albanese Ageti grande protagonista anche agli europei con l'Albania non avrebbe dato risposte entro la giornata di ieri il termine fissato dalla società Biancazzurra dal presidente Sebastiani andiamo avanti si parla del Teramo un Teramo vincente con due punte forti oggi la presentazione della campagna abbonamenti mentre il presidente Campitelli incontra Sansovini grandi bomber per ora aspettano di ricevere offerte da società di serie B dobbiamo attendere il momento buono e poi ovviamente noi oggi seguiremo con le nostre telecamere proprio la presentazione a Teramo della campagna abbonamenti e vi forniremo il servizio nel corso delle edizioni del TG6 e poi si parla dell'Aquila Patrone Chiodi credo ancora nel ripescaggio in Lega Pro Rosso Blu che hanno ufficializzato il nuovo allenatore per la prossima stagione si tratta di Massimo Morgia e poi il Lanciano bastola cuore Lanciano vorrei restare ancora ma non dipende da me il centrocampista molta fiducia nel futuro della società e poi parliamo di serie D calcio di serie D il Chieti su Frasca e Bianchi della ex giocatore della Torre se poi palla a mano nuova Teramo e Team via alla fusione dunque fusione fra le due squadre teramane andiamo ancora avanti siamo al mercato delle squadre dilettantistiche abruzzesi di calcio Francavilla Angolano e San Buceto scatenate preparano una grande annata anche l'Alba Adriatica che annuncia quattro acquisti il San Salvo pensa a longo per la panchina vedete nella foto Gabriele Bancoschi patron dell'angolana ma anche dirigente del Delfino Pescara e poi il volley la Sieco rischia un girone di ferro tutte le novità dei campionati dopo la riforma sarà una serie a due di pallavolo maschile sempre più competitiva e poi il basket il Roseto dopo Fulz insegue Mastellari di Paolo Antonio convinto di offrire un posto in quintetto alla giovane guardia titolare della nazionale Under 20 e poi per la Proger Chieti uno roster da completare ma senza avere fretta e poi si parla di basket di serie B di Salvatore riparte dalla panchina di Ortona e poi in basso ancora basket il Teramo spera nel ripescaggio Teramo che ha partecipato al campionato di serie C mentre l'amatori Pescara che è arrivata ad un soffio bisogna dirlo dalla finalissime per la promozione in serie A2 conferma il bomber Simone Pepe siamo arrivati al termine delle pagine sportive del messaggero prima di passare al centro alle pagine sportive del centro come vi dicevo andiamo a dare uno sguardo ai titoli alle prime pagine dei quotidiani nazionali sportivi oggi in edicola come detto spazio anche agli europei dalle pagine dei quotidiani nazionali non solo sportivi perché ieri si è giocata un'altra partita importante con la vittoria della Francia per 5 a 2 sull'Islanda l'Islanda di Bikir Bjarna sono tra l'altro in rete partiamo allora dalla gazzetta dello sport ecco qui la prima pagina il virus dei rigori una maledizione tutta italiana Pelle e Zazza da eroi a bersagli dunque si parla dell'illiminazione dell'Italia e delle critiche ricevute da Pelle e Zazza e poi nasce l'Inter Mancina in questo gioco nel titolo Inter che è finita in mano dei cinesi oggi il primo raduno targato Suning Icardi e Condobbià a lavoro per la Champions Pressing dell'amico Ronaldo su Gabriel Jesus la mossa è lasciarlo in Brasile fino a dicembre l'obiettivo dell'Inter è quello di agguantare per la prossima stagione un piazzamento in Champions League e poi decolla il Milan di Montella vertice con Galliani il tecnico a Milanello in sede parlerà di mercato domani Berlusconi lascerà l'ospedale e dunque si potrà iniziare in casa milanista a guardare concretamente alla nuova stagione vi dicevo degli europei Islanda travolta la Francia si presenta alla Germania con una cinquina 5 a 2 il risultato finale dalla Gazzetta dello Sport al Corriere dello Sport Juve altri due si parla di mercato della Juventus Benatia e Piaka dopo Alves e Pjanic il centrale marocchino ormai a un passo c'è l'accordo da definire soltanto i bonus ore decisive per il croato bianconeri in vantaggio e poi la nazionale Conte il saluto ai suoi azzurri grazie ragazzi il CT prima di partire ha parlato alla squadra in lacrime mai potrò dimenticare applausi all'arrivo all'aeroporto di Milano boom in tv boom di ascolti per la nazionale poi Zazza e Pelle Tristi Italia scusaci e poi si parla ancora di calcio in questo caso nazionale di mercato Inter e Bernardeschi l'obiettivo se salta Berardi per il Napoli Witzel ora apre per Herrera c'è l'ultimatum e chiudiamo con tutto sport Juventus Benatia poi rilancio per Cavani il bombero uruguaiano rifiuta il rinnovo di contratto con il Paris Saint Germain i bianconeri tentano e tornano all'assalto vedete Cavani in foto ex tra l'altro attaccante del Napoli Milan ecco Paredes per Montella oggi vertice con Galliani e poi in alto nostalgia Conte ma tornerò a Ventura un bonus mondiale perché Giampiero Ventura come molti di voi sapranno sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia e poi il richiamo in alto sugli europei Pogba Sciola Francia senza pietà demolita l'Islanda 5 a 2 per i transalpini e poi Torino Giaccherini può dire sì Iago ci siamo e poi Berruto Tifa Mihailovic Mihailovic nuovo allenatore del Torino lasciamo dunque i quotidiani nazionali sportivi abbiamo visto le prime pagine della Gazzetta dello Sport del Corriere dello Sport e di tutto sport ripartiamo dal centro dalle pagine dello Sport e proprio dall'inserto relativo agli europei per vedere anche qualche titolo che riguarda la nazionale vedete la prima pagina non è finita titola il centro poi parla il commissario tecnico tra poco ex commissario tecnico perché Conte andrà a allenare il Chelsea in Inghilterra quest'Italia ha di nuovo un'anima le lacrime di Conte nell'ultima conferenza stampa da allenatore della nazionale e poi la generazione senza fenomeni Conte ha fatto il massimo e poi vedete in basso Buffon volta pagina e dice ripartiamo azzurri accolti tra gli applausi agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino Italventura primi nomi per conoscere il futuro da Donnarumma Berardi passando per i pupilli in Magliatoro e tra i possibili azzurri per l'era Ventura c'è anche Ciro Immobili che vedete nella foto ex attaccante del Pescara e poi due errori nel mirino lo scavetto di Pelle la danza di Zazza ecco i dolori azzurri dal gesto del cucchiaio Neor alla rincorsa pazza è un rispietato i peggiori tiri dal dischetto mai visti dunque nel mirino della critica Pelle e Zazza e poi c'è questa analisi maledizione Rigori sesto capitolo dall'errore di Collovati agli europei dell'80 a quello di Di Natale nel 2008 Italia non proprio fortunata e precisa nei tiri dagli 11 metri nelle partite che contano e poi Super Francia come dicevamo 5 a 2 all'Islanda vedete i Blues sul 4 a 0 già nel primo tempo poi si risparmiano per la semifinale con la Germania e vedete nel tabellino delle reti c'è anche finito anche l'ex giocatore del Pescara Bikir Bjarnson che al 39esimo del secondo tempo ha segnato il gol del definitivo 5 a 2 e possiamo dunque arrivare tra l'altro arrivare al calcio di casa nostra ma prima di parlare delle nostre formazioni di calcio un titolo doveroso un omaggio doveroso al fischietto di Giulia Nova Di Martino Antonio Di Martino un arbitro predestinato perché è stato promosso in Serie B a soli 28 anni un motivo di orgoglio per tutto il movimento arbitrale della nostra regione dunque a 28 anni Antonio Di Martino il prossimo anno dirigerà partite del campionato nazionale di Serie B facciamo dunque gli auguri al fischietto Giuliese per un'avventura speriamo fortunata per lui e siamo al calcio di casa nostra sfuma l'obiettivo Ageti il Pescara va su stendardo il presidente Sebastiani aspettava una risposta ieri salta l'arrivo dell'albanese per il difensore Atalantino da superare lo scoglio dell'ingaggio ritenuto alto dunque sarebbe saltato Ageti che doveva si diceva poteva venire a Pescara e a proposito di albanesi Memushay è sempre più corteggiato dal Bologna parliamo di abbonati da oggi vecchi abbonati infatti possono rinnovare la tessera alle 16 di oggi aprirà la campagna abbonamenti del Pescara per la prossima stagione e poi in basso Borriello Edosvaldo a parametro 0 nell'elenco dei giocatori svincolati figurano ex biancazzurri o possibili acquisti del Delfino e poi l'attaccante tascabile il romeno Mitriza dice voglio restare cerco una chance in Serie A il Pescara per me è stato come una famiglia nella quale crescere con Oddo sono migliorato tanto e intendo proseguire il lavoro ma è difficile che Mitriza possa restare a Pescara per la prossima stagione e poi ultimi giorni di vacanza tra una settimana il raduno in sede partenza per Palena il 14 luglio e poi mercato di Serie B il Trapani che ha perso la finalissima con il Pescara vira vira sul Longo i siciliani vogliono infatti la punta che piace anche al Pescara il difensore del Fabro dal Cagliari al Pisa andiamo avanti l'incertezza Lanciano il futuro resta congelato parliamo di Lega Pro si aspetta il 7 luglio per conoscere la volontà dei Maio e Bacinovic unico certo del cambio di Casacca il giocatore sloveno lascerà il Lanciano andiamo ancora avanti andiamo in basso si parla di calcio dilettantistico promozione prima in atto tre fusioni dilettanti tra un mese la composizione dei campionati sono 28 le domande di ripescaggio siamo al Teramo Biancorossi molto attivi sul mercato diverse le trattative portate a termine dalla società del patrono Luciano Campitelli e poi parla Speranza un legame a vita Ivan Speranza che ha firmato il prolungamento del contratto resterà in Biancorosso per altre quattro stagioni qui mi sento coccolato e poi le altre Casertana Pavia e Rimini in bilico sul Como pende un'istanza di fallimento saranno otto i posti liberi proseguiamo siamo al calcio di serie D Chieti il portiere Frasca è un obiettivo di Orlandi il neotecnico Nero Verde alla sua lista c'è anche Gallon una presenza con il Cagliari in serie A e oggi il via per le iscrizioni al campionato di serie D c'è tempo fino al 18 luglio e dal Chieti all'Avezzano Aquino è l'oggetto del desiderio il direttore sportivo De Angelis a caccia del sostituto di Bisegna Paris ha fatto l'offerta all'ex attaccante del Campobasso restiamo in serie B per vedere altre notizie che riguardano le formazioni abruzzesi partiamo dall'Aquila Morgia vuole Mini Incleri il neotecnico ed il DS Battisti guardano anche agli ex del Chieti e poi San Nicolò primi tasselli con direttore generale e direttore sportivo dopo il ritorno di Natali per il quarto anno accordo con Francesco Micciola e poi il Pineto ne ho promosso in serie D tornata alla formazione pinetese nel campionato nazionale dopo 18 anni c'è l'intesa con il bomber arriva anche Di Giorgio dal Martinsicuro l'intesa con il bomber ovviamente si parla di Antenucci e poi in basso Vastese Colavitto conferma Tarquini insieme a De Fabritis l'allenatore punta a mantenere l'attaccante da 15 reti siamo al campionato regionale di eccellenza i movimenti di mercato Francavilla c'è Borghetti San Salvo Spunta Longo e poi parliamo del Giulianova vi avevamo nei giorni scorsi fatto vedere anche le interviste i servizi realizzati per la presentazione in comune della nuova società con le interviste al sindaco di Giulianova al neopresidente anche al tecnico Angelone e al Giulianova si partirà da Chico Giglio e forse del Grosso dunque la società giallorossa pensa in grande ovviamente l'obiettivo è quello di vincere subito il campionato di promozione e poi il Chieti il Chieti di Trevisan pensa anche a Catalli parliamo dell'altra squadra di Chieti perché come molti di voi sapranno a Chieti c'è la formazione che parteciperà al prossimo campionato di serie D formazione del patron Giorgio Pomponi e invece c'è un'altra formazione che ripartirà dal campionato di promozione del patron Trevisan che pensa anche a Catalli dunque due squadre a Chieti nella prossima stagione calcistica parliamo anche brevemente del campionato mondiale di automobilismo gran premio d'Austria Hamilton vince e riapre il mondiale non è andata bene alle Ferrari e poi ancora Sport di Casa Nostra con il basket di serie A2 partiamo dal Roseto coach di Paolo Antonio Fuls sarebbe un bel colpo e poi Chieti no di Sadler si prova con Corbett ma costa parecchio ancora notizie che riguardano il basket dalle altre formazioni di serie B Amatori Pescara Pepe resta in bianco rosso mancano solo le firme Giulianova si riparte da Gallerini da Coach Francani a Campli Reparto Lunghi Mirino su Ponziani e Salafia infine Ortona Castelluccia verso il Sì Nobile sfuma l'accordo e siamo all'atletica risultati degli abruzzesi Sinisi e Beneduce brillano al meeting città di Teramo il teatino supera ancora una volta la soglia dei 5 metri nel salto con l'asta la martellista della Terno Pescara si avvicina al suo record regionale poi podismo Bucci si impone a Roccamontepiano nella manifestazione Corri nella natura in montagna il portacolori della Tocco Runners precede il San Salvese d'Agostino e poi la seconda edizione della Sue Giù l'Etiope ma Aquilano ormai di adozione a Dugna domina anche a Spoltore secondo l'ex azzurro Alberico Di Cecco nostro collaboratore nelle trasmissioni Wisp e anche a Dugna spesso ospite proprio nelle trasmissioni della Wisp nei nostri studi di Cecco staccato di oltre tre minuti con a Dugna dominatore anche a Spoltore e poi il softball a fondo pagina l'Atoms Chieti sconfitta a Roma resta però al terzo posto e siamo al ciclismo il Memoria Cardinale il trofeo di Mosciano agli amici della Bici Junior la gara riservata ai giovanissimi primi posti individuali per Arena Mancini Fusilli Marchetti Cerasi La Cioppa Pizzi Di Renzo Piano e Palazzone ancora ciclismo a Castel del Monte Di Santo domina la Marathon Gran Sasso e poi in basso Gran Premio di Alba Adriatica podio Marchigiano primo posto al Fanese Zampolini Giuliese Di Pancrazio vince il titolo di campione provinciale allievi e a proposito di ciclismo ieri si è corsa la seconda tappa del Tour de France arrivo in volata tappa e maglia per Sagan il campione del mondo strappa la maglia gialla a Cavendish Nibali ventinovesimo a venticinque secondi tornando al ciclismo di casa nostra il manoppello a Schiavone la cronoscalata del Rico che anticipa di un soffio di Pietro e poi Dolomites sorpresa a Desi secondo posto alla Bruzzese nella categoria 55 M4 andiamo ancora avanti con l'ultima pagina dello sport dal quotidiano il centro si parla di motori slalom del Gran Sasso di Domenico Antonio non ha rivali automobilismo a Montorio al Vomano podio al Terramano e Gramenzi Bissa la vittoria alla San Marco San Giacomo e siamo al Rugby l'Aquila Rugby riparte tra volti nuovi e ritorni dalla Gran Sasso dai cugini della Gran Sasso arrivano Santa Venere e Caiazzo in Bilico il Gallese Mckenzi si tratta per Antonelli ricordiamo che l'Aquila parteciperà al prossimo campionato di Serie A di Rugby e poi infine Pallamano Remigio lascia la presidenza del Città Sant'Angelo partono il 24 settembre i campionati di A1 maschile e femminile accordo abbiamo visto anche dalle pagine del messaggero tra la nuova HF Teramo e l'HC Teramo per la stagione 2016-2017 ci sarà questa fusione fra le due formazioni Teramane dopo questa direi più che ampia pagina sportiva come sempre del lunedì abbiamo visto titoli sia di carattere nazionale che locale possiamo dunque salutarci per questo primo appuntamento della settimana con Mattino 6 vi ricordo i prossimi però appuntamenti informativi su TV6 la prima edizione del nostro telegiornale come sempre alle ore 14 grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti a tutti a tutti Grazie a tutti